Samuele Cerrone, entriamo nella fase in cui non si può più sbagliare, il Civitavecchia vuole 6 punti nelle ultime due partite, si parte da domenica quando affrontate la Boreale in trasferta, che Civitavecchia ti aspetti? Sicuramente come la nostra ultima prestazione, mi aspetto una prestazione da squadra, da vera squadra, tutti uniti e compatti in campo, perché la partita di domenica è una partita insidiosa, la Boreale ancora a ricerca di punti, daranno tutto anche loro e noi essendo sulla carta forse anche sbagliati più forti dobbiamo vincere a tutti i costi. Tu da quando c'è Camillo hai la fiducia proprio del tecnico, senti questa fiducia perché ti mette quasi sempre titolare in campo? Sì, sì, mi sono subito trovato bene con il mister, inizialmente l'ho ripagato anche con qualche gol, ora è da tanto che non segno e spero di contribuire domenica. Ascolterete anche i risultati della Valle del Tevere, sperate in un passo falso con il Kregas oppure la domenica dopo con l'Atletico SFF? Sì, speriamo subito da domenica che la Kregas giochi come ha giocato con noi, ha fatto una grande partita di contenimento soprattutto, senza regalare niente a nessuno e noi sicuramente staremo in panchina, il direttore rimarrà sempre aggiornato minuto per minuto. Oggi è il tuo compleanno, ti facciamo gli auguri, che regalo vorresti ricevere già da domenica? Innanzitutto vi ringrazio, il regalo che vorrei ricevere è la vittoria, anzi la sconfitta della Valle del Tevere. Grazie a tutti.